Musica Benvenuti a quest'ultima puntata di La Sicurezza e Vita, campagna educativa sulla sicurezza stradale promossa dalla Prefettura di Sondrio grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Pro Valtellina con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, Polizia di Stato e Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale di Sondrio e di Valtellina Security Driving Project School. Giunge a compimento questo ciclo di otto trasmissioni che abbiamo dedicato proprio ai temi della cultura della sicurezza stradale lo abbiamo fatto in compagnia di esperti dei corpi di Polizia e di Forze dell'Ordine che quotidianamente sono impegnati nelle attività di informazione, di prevenzione e laddove necessario anche di sanzione, di repressione dei comportamenti scorretti alla guida. Oggi abbiamo il piacere di ospitare in studio il dottor Claudio Marcassoli, psichiatra psicoterapeuta, nelle duplice vesti di vicepresidente della Onlus Valtellina Security Driving Project School ma anche di presidente della commissione valutatrice degli elaborati che saranno prodotti dagli studenti nell'ambito di un concorso di creatività promosso proprio dalla prefettura nelle scuole superiori del nostro territorio. Benvenuto dottor Marcassoli. Buonasera a lei. Un tema del quale abbiamo discusso già in più occasioni e sul quale spesso ci siamo interrogati su un quesito non facile come comunicare questi temi dell'educazione alla sicurezza stradale, alla responsabilità nei confronti dei giovani, dei ragazzi? Certo, è un problema sicuramente da affrontare perché basta venire un attimo i tassi di incidentalità e soprattutto io temo che stia venendo avanti una situazione di deresponsabilizzazione del guidatore. per cui quando succede un incidente è sempre colpa di qualcun altro. Una volta si parlava dei platani assassini che erano gli alberi a lato della strada contro cui andavano le macchine adesso si dà la colpa alle radici, alle buche sulle strade. E questo è vero, però io ritengo e questo progetto porta avanti questo discorso che sia fondamentale responsabilizzare i guidatori e soprattutto i giovani, non solo i giovani ma soprattutto i giovani al rispetto delle regole che è l'unica garanzia che si possa circolare con tranquillità sulle strade. Quindi credo si tratti di un progetto molto importante, appunto messo in piedi dalla prefettura di Sondrio, dalle forze di polizia con la collaborazione con la nostra associazione e qui rappresento anche il presidente Gian Andrea Pro e quindi siamo contenti dell'andamento del progetto. Ora ci aspetta una cosa a mio parere molto importante perché coinvolge in prima la persona e i giovani. Io mi rendo conto che spesso l'esperto che arriva, che fa la lezione, che parla è fondamentale ma non raggiunge sempre l'obiettivo di influire veramente sui giovani. E quindi coinvolgerli direttamente nel progetto attraverso questi elaborati che noi chiediamo di fare. Quindi abbiamo lanciato un concorso in cui su temi quali la responsabilità, l'inquinamento, le regole della circolazione questi giovani potranno fornire degli elaborati in forma scritta, cartacea, in forma telematica attraverso dei video in cui esprimere ciò che pensano su questa problematica. E il progetto è stato prorogato dopo l'estate per permettere al maggior numero di studenti di partecipare. C'è poi una commissione e i migliori elaborati verranno premiati con un corso di guida sicura che verrà offerto gratuitamente a questi giovani ovviamente neopatentati o in possesso di foglio rosa presso l'aviosuperficie. Quindi un corso molto importante a nostro parere che permetterà ai giovani di sperimentarsi in situazioni di rischio perché di fatto anche le scuole guida non pongono mai i giovani a sperimentare delle situazioni di emergenza. Quindi attraverso le prove di guida sicura con istruttori qualificati di livello nazionale offriremo agli studenti che si sono distinti in questi elaborati e con questi elaborati ha la possibilità di sperimentare una prova di guida sicura. Ecco diciamo che i destinatari, coloro che possono partecipare al concorso sia in forma singola che in lavori di gruppo sono gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado ovvero degli istituti superiori con una sollecitazione, un invito particolare agli studenti neopatentati o in possesso di foglio rosa che dunque già si stanno misurando nell'esperienza della guida i lavori possono essere, come diceva il dottor Margassoli espressi sotto forma di elaborato testuale, di ricerca, di paper, di piccolo saggio così come di video o di elaborato di carattere grafico, artistico, figurativo e poi questa giornata di esperienza di cui abbiamo già avuto occasione di vedere precedenti edizioni a cura di Valtellina Security Driving Project School che propone ai ragazzi una simulazione delle situazioni alterate di guida ad esempio sotto l'effetto di alcolici oppure condizioni ambientali come la pioggia che possono modificare i margini di sicurezza di un conducente. Infatti ci saranno prove a simulatore, quindi abbiamo dei simulatori che simulano la guida in condizioni particolari, in più la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche sostanze stupefacenti, quindi prove teoriche ma poi prove pratiche su macchine vere con gli istruttori di guida che permetteranno di sperimentare queste situazioni di emergenza le prove sul bagnato, la frenata, l'ostacolo improvviso, il testa-coda e queste sono prove molto apprezzate dai giovani, noi sono un po' di anni che le proponiamo alle scuole superiori e devo dire che non ho sempre avuto un grosso seguito. Quindi ragazzi cogliete questa opportunità, naturalmente tutti gli istituti superiori sono stati coinvolti, sensibilizzati anche attraverso l'intervento dell'ufficio scolastico provinciale c'è tempo ancora per partecipare, per darsi da fare e cogliere questa opportunità. Dottor Marcassoli, abbiamo raccontato nel corso di queste puntate quali sono purtroppo i fattori di rischio o le violazioni al codice della strada più frequenti, l'abuso, l'utilizzo sbagliato del telefonino piuttosto che quello un po' sempre disinvolto di casco, cinture di sicurezza, insomma meccanismi di protezione o ancora la velocità, quale lei mette in testa diciamo ai fattori di rischio per la platea particolare dei giovani automobilisti o motociclisti? Beh, sono parecchi i fattori di rischio, sicuramente la guida sotto l'effetto di sostanze che alterano le capacità cognitive e riflessi viene al primo posto, per cui la solita regola che non ci si mette al volante dopo aver bevuto o a maggior ragione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Una cosa che io sto notando è proprio l'utilizzo del telefonino alla guida perché si sta diffondendo molto, questo fa un po' parte del discorso che io porto avanti anche in altri ambienti sulla dipendenza dai social, da internet e dai telefonini, per cui sembra quasi che uno non possa mettersi alla guida a guidare 20 minuti senza dover essere sempre connesso e questo è uno dei fattori di rischio che sta aumentando, di fatti sono delle statistiche che ci dicono che molto spesso gli incidenti sono legati ad un uso improprio del telefonino o di altri mezzi tecnologici durante la guida. Io sono anche dell'idea che certe pubblicità che portano avanti il discorso di sempre connessi alla guida oppure potete rispondere per via vocale agli sms senza dover digitare non siano positivi. È un invogliare i giovani ad un uso scorretto e improprio del telefonino. Certo, comunicare al telefonino mentre si è alla guida è possibile naturalmente con i meccanismi idonei di opportuna strumentazione però insomma va ricordato che la guida richiede la massima attenzione possibile quindi qualsiasi fonte di distrazione deve essere ridotta al minimo alla comunicazione laddove è urgente, laddove è necessario il più sintetico e il più breve possibile. Dottore, le iniziative di sensibilizzazione di informazione promosse sul territorio anche con la collaborazione delle istituzioni e delle forze dell'ordine e attraverso l'attività di ONUS come la vostra sono importanti. La scuola cerca di fare la sua parte, il tema della sicurezza e dell'educazione stradale è diventato se vogliamo un tema di educazione civica in senso lato non trascuriamo però che c'è a monte anche un fattore di educazione diciamo così preliminare costituito dall'ambito familiare vale per il tema della guida come per tanti altri aspetti nell'età adolescenziale. Assolutamente, la scuola può intervenire laddove la famiglia ha già costruito una serie di regole e di codici e ha già svolto la sua funzione educativa altrimenti la scuola non ha molte armi se il ragazzo non riceve fin dall'inizio dalla parte della propria famiglia una serie di regole educative una serie di input che gli permettano di diventare responsabile questo vale per la guida, vale per l'uso dei social, vale per le sostanze e quindi è fondamentale, così come è fondamentale, recuperare l'alleanza scuola-famiglia però deve partire all'inizio dalla famiglia e la scuola poi può rinforzare gli stimoli educativi che non possono venire che dalla famiglia. Grazie dunque dottor Marcassoli, presidente della commissione valutatrice che poi appunto giudicherà gli elaborati presentati dagli studenti sul tema della sicurezza stradale. vogliamo nuovamente ringraziare Valtellina Security Driving Project School tutte le forze dell'ordine che con grande disponibilità hanno collaborato con noi mettendo a disposizione le loro strumentazioni e le loro competenze per farci capire meglio quali sono i rischi della strada e i comportamenti da adottare grazie alla prefettura, come si diceva, promotrice di questo progetto con il prezioso e indispensabile contributo di Fondazione Cariplo e Pro Valtellina noi continueremo, seguiremo a raccontare gli sviluppi di questo concorso e a tenere i riflettori sempre puntati sui temi della sicurezza stradale e della prudenza e responsabilità alla guida per giovani e non solo giovani come purtroppo le cronache spesso ci raccontano. Grazie ancora dottor Marcassoli, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Arrivederci.